buongiorno buongiorno oggi è lunedì 29 maggio rassegna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione cielo sereno su gran parte del territorio alto tesino temperature massime in ulteriore risalita in regia abbiamo questa mattina massimo moro con l'instituto diamo un'occhiata a cosa accade questa mattina alle 6 30 in val venosta siamo alle porte del centro abitato di naturno la grafica come sempre per andare a capire l'escursione termica come detto 32 gradi nelle ore centrali a bolzano sarà identica la temperatura anche a merano e bressanone 29 gradi a silandro 29 gradi a brunico 28 gradi a vipiteno una notizia delle ultime ore operazione di ricerca persone questa mattina all'alba da parte del 118 nella zona di silandro coinvolti anche i carabinieri e vigili del fuoco volontari si cerca una donna anziana che ha fatto perdere le sue tracce da alcune ore le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola l'alto adige droga raddoppiano i minori dati allarmanti della procura 15 anni spacciatori pienone a vadena per auto elettriche e segue safety park preso d'assalto per i drive die dei 2017 ancora con la cronaca l'inserto del lunedì lo sport il bozner va a giocarsi la serie d impresa dalla squadra di toccoli che ribalta il risultato d'andata e va in finale play off la cronaca linguatrisca a cura del quotidiano dolomiten il tema è quello della raccolta del latte e la produzione di latticini e non solo l'era del bio quali sono le nuove opportunità quali sono anche le preoccupazioni per lo sport e manuel quinziato sul podio nella crono di milano ultimo giorno del giro d'italia sempre per la cronaca la cronaca a livello nazionale il correre della sera la sfida di merkel a trump l'europa prenda il destino nelle proprie mani giro d'italia e gran premio di monte carlo per lo sport l'economia l'inserto del lunedì affari a tavola non solo ricette è la cucina bellezza parlano massimo bottura carlo cracco antonino cannavacciuolo il sole 24 ore il ritorno dei capitali ritorno volontario dei capitali non decolla correzioni in arrivo con la manovrina gli appuntamenti da non perdere in provincia di bolzano ad iniziare dalla giornata di oggi assemblea 2017 della ghefao al walter house di bolzano l'hortler bike marathon il 3 di giugno il 9 di giugno il festival della mila per la raccolta del latte a sarentino e sempre 9 di giugno al via l'edizione 2017 della cavalcata di oswald von bolkenstein nella zona di siusi e dintorni come sempre vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 e e e e e e e